In compagnia di Mario Capunzo, la facoltà di medicina ha fatto, farà e sta percorrendo passi da gigante e oggi un brindisi inaugurale per vacanze natalizie. Sì, un brindisi soprattutto per il proseguo di questo programma, che è un programma che va nella direzione di una tradizione antica che è quella della scuola medica salernitana, è un programma che vede dei risultati importanti che sono stati ottenuti e praticamente noi andremo avanti, andiamo avanti come avete potuto ben vedere insieme all'ordine dei medici, insieme all'azienda, insieme ai colleghi, l'azienda espedale universitaria merita sostegno, merita rispetto, non ci sono più invasori e qualcuno che è stato invaso, ma c'è un gruppo di persone che lavorano nella direzione dei giovani, della formazione, nella direzione del territorio e soprattutto nella direzione degli ammalati. Questo è il nostro auspicio e noi siamo convinti che continuando su questa strada otterremo dei risultati importanti per noi, per i giovani, per gli ammalati, per il territorio. Grazie.